1900 anni fa e precisamente nel 117 d.C. moriva l'imperatore Traiano, uno degli imperatori sicuramente più noti, più importanti di quella che è la plurisecolare storia di Roma, un imperatore che è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti quanti un vero e proprio conquistatore. L'imperatore Traiano, in effetti, nel momento in cui divenne imperatore, diede vita tutta una serie di campagne e spedizioni militari che consentirono all'impero romano di ottenere la sua massima estensione territoriale. Quelle conquiste che del resto sono straordinariamente rappresentate in quel monumento importante che è la colonna Traiana, che fece delle imprese daciche la prima vera e propria guerra mediatica della storia. In effetti la colonna Traiana non soltanto consente di raccontare con duvizia di particolari le fasi salienti delle due guerre d'aciche, la prima dal 101 al 102 d.C., la seconda dal 105 al 106 d.C., ma soprattutto ci racconta, nei suoi straordinari rilievi, veri e propri, per così dire, fotogrammi di un film di pietra, ci consente di raccontare quello che è dietro le quinte delle guerre. In modo particolare quello che si nota è anche la grande capacità dell'esercito romano che non lasciava assolutamente nulla al caso, in cui l'assetto logistico e il vettovagliamento erano elementi importanti per avere anche delle grandi vittorie militari.